Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, buon venerdì 28 gennaio, una mattinata di brutto tempo questa di oggi a Torino, tra poco vedremo che cosa ci aspetta nel resto della giornata e soprattutto nel weekend, intanto andiamo a sentire le notizie di viabilità, come sempre lo facciamo con Walter Gelbi dalla centrale operativa dei Vigili Urbani, Walter a te. Buon venerdì 28 gennaio, le notizie di oggi, controllo velocità sui corsi Giulio Cesare, Grossetto, Vittorio Anuele, Sacchio Ranzetti, Francia, Vieruento, alle 9 all'otto Gallere Italy, cerimonia posa cartello meridiano intitolato a Cassini, alle 9.30 cortevo Fionda, Porta Susa, via Cernaia, Piazza Solfino, via Santa Teresa, via Roma, Piazza Castello, alle 10.30 in titolazione Area Verde, in Piazza Rievo, al ragazzo Giorgio Monteanu, ad un anno della sua Sassinio, causa sciopero Cobas, dipendenti comunali, possibili disagio d'utenza, dalle 7.30 alle 19.30, divieto di transito in via Osasco, tra via Braccini e via Milio, per lavori edili, semafori di manutenzione in corso Tassoni, angolo via Cebrario. Ancora informazioni, vi ricordiamo per domenica il blocco della circolazione, dalle 10 alle 18, con un biglietto GTT, si circola tutto il giorno sulla rete urbana. È tutto, buona giornata, buon fine settimana, buon viaggio dalla Polizia Municipale a Torino. Bene, grazie Walter per le notizie di viabilità, noi passiamo a vedere la situazione del tempo, come vi dicevo, brutto tempo questa mattina a Torino, abbiamo circa 4 gradi al momento in città, con una temperatura percepita però inferiore, siamo intorno ai 2 gradi perché l'umidità è molto alta, oltre il 70%. Ci viene segnalato dalla nottata, intorno alle 3 alle 4 del mattino, è cominciata in alta collina a Torino una piccola precipitazione nevosa, qualche fiocco si potrebbe avere anche in mattinata qui in pianura, non ci sono ovviamente problemi per la circolazione perché si tratta di un evento molto contenuto. Comunque la giornata di oggi si pronuncia così, possibile qualche fiocco di neve, possibile una leggera pioggerellina nel corso del pomeriggio, temperature che comunque anche in serata non scenderanno mai sotto lo zero. Cielo coperto però è quello che ci attendiamo, ce lo tendiamo a dire il vero anche per il weekend, nel weekend entriamo nei cosiddetti giorni della merla, non farà freddissimo, almeno non più di quanto è stato nei giorni scorsi, però già a partire dalla giornata di domani e dalla notte, tra oggi e domani sarà possibile vedere la neve qui a Torino, cielo coperto, temperature massime che arriveranno al massimo intorno ai 4 gradi, questo succederà anche domenica dove avremo precipitazioni, probabilmente anche qualche fiocco di neve, quindi una giornata, quella di domenica decisamente all'insegna del cattivo tempo. Ci spostiamo a vedere quali sono gli appuntamenti istituzionali previsti per quest'oggi, vi segnalo che l'assessore Levi a Napoli per il piano locale giovani della città metropolitana, un convegno nazionale che si svolge nella città partenopea, altro convegno si svolge invece qui a Torino, al Casa del Quartiere, in via Morgali numero 14, gli assessori Curti e Borgogno parteciperanno oggi alla riunione della rete delle città interculturali e delle città educative. Questa mattina poi alle 12.30 in prossimità di Italy in via Nizza, l'assessore Ferrari si interverrà alla intitolazione di una targa a Gian Domenico Cassini che verrà posta esattamente nel punto in cui passa il meridiano con il suo nome. Passiamo a Torino Click, l'agenzia quotidiana della città che trovate in formato PDF sulla nostra home page, la prima notizia non poteva essere altrimenti, tra quelle che abbiamo scelto è dedicata al blocco del traffico, ne ha già parlato Walter durante le notizie di viabilità, ci limitiamo a ricordarvi che è un improvvedimento che si avrà questa domenica dalle 10 alle 18.00, non riguarda soltanto la città di Torino ma anche 10 comuni dell'area metropolitana che trovate riepilogati su Torino Click e, cosa molto più importante, su Torino Click trovate l'intero testo dell'ordinanza che disciplina il blocco in modo da poter verificare se rientrate in una delle eccezioni per poter circolare. L'altra notizia è invece quella relativa all'ecomuseo urbano della circoscrizione 1, era l'unica circoscrizione fin qui che non aveva il proprio ecomuseo urbano ebbene è stato inaugurato ieri mattina in via Dego numero 6 all'interno del quartiere della Crocetta, si tratta dell'ultimo ecomuseo come detto che apre i battenti con una mostra dedicata alla scuola Sclopis, una storia elementare, immagini, voci e ricordi dalla scuola Sclopis. Andiamo adesso sulla nostra homepage a vedere la notizia che abbiamo scelto per voi questa mattina, si tratta dei biglietti omaggio dell'Informa Giovani perché quest'oggi alle 15 saranno messi in palio gli ultimi tre biglietti disponibili per il concerto di Fabri Fibra che si terrà domani sera al Teatro della Concordia di Venaria, vi ricordo che il concerto è tutto esaurito perciò questi tre biglietti sono particolarmente appetibili, trovate le informazioni per partecipare a partire dalla notizia, comunque si tratta di sintonizzarsi sul sito di Torino Giovani a partire dalle 15. Un'occhiata al traffico con le telecamere del Consorzio 5T, qui siamo in Corso Agnelli, angolo Corso Cosenza, in direzione est su Corso Cosenza, situazione tutto sommato tranquilla anche se abbiamo un po' di attesa al semaforo come normale che sia. Ci spostiamo poi al Martinetto in direzione di Corso Regina Margherita Ovest, vedete un grande flusso di auto in ingresso in città sul lato sinistro dell'immagine, qui siamo in Piazza Pitagora a direzione nord su Corso Siracusa, traffico sostanzialmente tranquillo e infine chiudiamo con la telecamera sulla rotonda Maroncelli, zona sud della città come sempre un po' trafficata a quest'ora del mattino. Bene, è tutto anche per questa mattina, grazie allora per averci seguito, grazie Mario Parena per la messa in onda, a voi di una buona giornata e di un felice weekend.